Ciao a tutti ragazzi, vostro lì, benvenuti in questo nuovissimo vlog, credo sia un vlog, dove voglio parlarvi delle collaborazioni tra youtuber e aziende. Perché faccio questo video? È molto semplice. Tantissime persone mi fanno questa domanda per messaggio privato. Lì, come fai, anche su Facebook, come fai a collaborare con queste aziende? Come si fa a collaborare? Come fai a conoscerle? Eccetera, eccetera. Ho deciso quindi di fare questo video, l'avevo già annunciato tra l'altro con un post su Facebook. E niente, eccomi qua, facciamo questo video, quindi sveliamo questo arcano, che poi non è nessun arcano, e poi vi parlerò anche di cose un po' più personali e vi farò capire delle cose. Voglio però mettere in chiaro una cosa. In questo video non ci saranno nomi di brand, tranne un brand, perché dovete sapere questa cosa. Non ci saranno nomi, cognome, nulla. Non ci sarà nulla. Sarà un video totalmente asettico. In che senso? Nel senso che non ci sarà nulla, non mostrerò nessun pro... nulla, niente di niente. Io che parlo come uno scemo. Basta, questo è quanto. Tranne, ripeto, quel brand, però capirete perché. Ok. Allora, c'ho qua tra l'altro un fogliettino dove c'ho scritte delle piccole annotazioni che c'ho una scaletta e voglio rispettarla. Il video non è preparato, mi sono solo scritto la scaletta per sapere quello che devo dire, perché ci sono un po' di punti da affrontare. Iniziamo. Allora, a cosa servono le collaborazioni? È semplice, cioè, forse è un punto inutile, ma devo dirvelo. Le collaborazioni servono alle aziende per presentare un nuovo prodotto, un nuovo software, magari a persone che non conoscevano quel brand, tutte queste cose così, per far vedere questo prodotto, i pregi, eccetera, eccetera. A questo servono. Questi video servono a questo, alle aziende. Mentre per noi youtuber, almeno per me, a che cosa servono? Io ho un canale che parla prettamente di informatica, nello specifico tutorial e hardware. Di questo parlo, alla fine. Almeno per chi mi segue lo sa. Per chi mi segue da più tempo. E a me che cosa serve? Visto che mi occupo di quello, ovviamente devo parlarvi anche di hardware. Perché è giusto scegliere un alimentatore di qualità? Perché questa CPU è meglio di questa? Perché questo prodotto è meglio di questo? Perché questo è meglio di questo, nonostante abbia questi difetti? Tutte queste cose così. A questo servono. A me quindi serve per portare avanti il mio progetto su YouTube. Tutte le varie rubriche, eccetera, eccetera. Per mettervi a conoscenza, per spiegarvi. Oddio, spiegarvi, non sono nessuno, per spiegare a qualcuno. Però per farvi conoscere, ecco, diciamolo così, per farvi conoscere quel prodotto, i pregi e i difetti. Poi, come si fa a collaborare? Prossimo punto. Come si fa a collaborare? Allora, vi parlerò della mia esperienza. Di che cosa ho fatto qui? Di come ho iniziato io, ecco. Allora, io ho iniziato a collaborare... Avevo un canale molto... Cioè, il mio canale è tuttora piccolo, sia ben chiaro. 13.000 iscritti, io non sono nessuno. Io ho iniziato a collaborare con 1.500, 2.000 iscritti circa. Ho iniziato contattando la prima azienda, ripeto, contattando, mi sono stato io a contattare l'azienda. Ho presentato il mio canale, cosa facevo, cosa non facevo, le mie capacità, comunque la conoscenza della materia, insomma, dell'argomento di quello di cui si parla. E niente, la società ha accettato, l'azienda ha accettato, ebbe iniziato la collaborazione. Questi video poi sono stati utili, ecco, diciamo così, sono stati utili per presentarsi anche con altre aziende. Quindi hanno visto la qualità di video, la competenza, sia ben chiaro, non mi sto né vantando né nulla, non lo sapete, non sono il tipo da fare queste cose. Sono tutto, questo che sto dicendo, qualità di video e tutto, sono tutte cose che mi hanno detto le aziende. La telefonata, il messaggio, la mail, e hanno fatto le competenze e io vi sto riportando le loro esperienze che hanno avuto con me. Questo è quanto. Poi, crescendo, crescendo, ripeto, sono un canale molto piccolo, crescendo comunque, avendo una certa base di aziende con le quali collaboro, è poi iniziata una piccola fase di essere contattati, quindi magari le aziende vedono il tuo canale, magari qualche azienda è amica, diciamo così, di un'altra azienda, magari uno produce RAM, che ne so, RAM ed SSD e un'altra produce case, per dirne una così a caso, produce tastiere, e dice, cavolo, però me lo contatto, vedo se è interessata, e quindi si viene contattato in questo modo, questa è l'azienda magari che ti fa un favore di contattarne un'altra, oppure semplicemente le aziende, dei PR delle aziende, o comunque chi si occupa del marketing, controlla YouTube come tutti, e magari una persona che fa quello di lavoro, si occupa di marketing e tutte queste cose, ovviamente, se è quello il suo lavoro, generalmente è anche interessato a quell'argomento, quindi su internet è probabile che veda video di questo tipo, quindi magari in questo modo, è capitato su un mio video, fortunatamente è capitato su un mio video, e ha deciso poi il giorno dopo la mail al lavoro, e ha contattato su YouTube, su Facebook e quant'altro, questo è quanto, non c'è nessun arcano dietro, che ne so, un particolare indirizzo, non c'è nulla di strano a dire, un contatto come un altro, questo è quanto, come quando si vuole telefonare a un'azienda per far montare l'ascensore nel palazzo, stessa cosa. Poi, allora, questo punto qua è uno dei punti fondamentali di questa vlog, non lo so, non so come chiamarlo questo tipo di video, ogni tanto guardo lo schermo, lo sapete, ormai sta cosa che devo fissare lo schermo, ma comunque. Allora, la realizzazione del video, parlo di video perché? Perché io faccio video su YouTube, quindi parlo di quello, basta. Allora, la differenza che c'è tra unboxing o review, quindi recensione, oppure pubblicità, è semplice. Allora, cerco di farla breve perché altrimenti starei a parlare per giorni, probabilmente. Allora, sistemiamoci. Allora, quello che faccio io sul mio canale è fare unboxing slash recensioni di prodotti, software e quant'altro. Che cos'è l'unboxing e la recensione? L'unboxing è il prendere il prodotto e toglierlo dalla scatola, questo è quanto. Dopo poi c'è la recensione, quindi come è fatto il prodotto sotto, sopra, a destra, a sinistra, dentro, fuori, le caratteristiche e quant'altro. E poi c'è, e questo divide l'unboxing, recensione da una pubblicità, c'è, tra virgolette, l'elenco, c'è, diciamo, l'argomentare i pregi e i difetti di un determinato prodotto. Adesso viene il bello. La pubblicità che cosa fa? Chi fa pubblicità a un prodotto? Quando finisce il video, questo prodotto è bellissimo e ne parlano tutti bene, è su, è bello, è destra, le performance, io consiglio su, di qua, di là il prodotto. Questa è la pubblicità. Questo è pubblicità. Non hai detto nulla, non hai fatto nient'altro che presentare quel prodotto per quello che, probabilmente, non è. Che cos'è l'unboxing, recensione, che faccio io? Ma non che faccio solo io, perché, oh lì, se non ti vantare... No, non mi sto vantando, io faccio così e lo potete vedere in tutti gli unboxing che ho fatto. Vedeteli tutti quanti, andate nella parte del cosa possiamo dire di questo prodotto, che si trova sempre alla fine, e lo vedete. Allora, che cosa faccio io? Dico i pregi di un prodotto, per parlare di un prodotto a caso, le cuffie, perché sono semplici, ok? Un prodotto piccolino, compatto, basta. Cosa possiamo dire? L'audio è di buona qualità? Sì o no? E io rispondo a questa domanda. L'audio è di buona qualità? Con una certa enfasi sui bassi. L'audio, per esempio, è un headset 5.1, quindi va bene per giocare, ma non è buono per la musica. Il microfono è buono o non è buono? Se è particolarmente buono, lo consiglio addirittura per fare i gameplay, o comunque per fare i vlog con una qualità superiore, o comunque per chi cerca un audio leggermente superiore alla media. Il microfono non è buono. Ragazzi, questo microfono potete usarlo solo ed esclusivamente per chattare con l'amico e mettervi d'accordo per uscire la sera, per farvi la partitina insieme, ma non ve lo consiglio, per esempio, per il gameplay o per qualcosa di più serio. Che ne so, sono pesanti, il collo fa male. Semplicemente, ma sono 400 grammi. Mettetevi 400 grammi sulla testa per due ore e dopo il collo così ce l'avete. Non vi muovete più da così. Le cuffie fanno sudare. Ebbè, ma quelle che fate le azze... No, se inizi a sudare ti iniziano a bruciare le orecchie e fa male. Ti inizi a far male, ti inizi a grattarti, prude attorno alle orecchie e fa male. Poi, non lo so, stringono la testa oppure sono troppo larghe e se ne cadono appena ti muo. Sono tutti difetti che vanno... Difetti o pregi, attenzione, perché magari possono essere molto fresche e possono non far sudare le orecchie anche dopo diverse ore. Sono tutti pregi o difetti che vanno elencati. Ci sono più pregi. Buono per l'azienda, sia ben chiaro. Per l'azienda è buono. Non per me, perché a me non me ne frega nulla del prodotto, sia ben chiaro. Difetti? Male per l'azienda. La prossima volta ci lavoravi di più. La prossima volta, come cazzo si chiama, i ricercatori, chi cavolo sono, ci lavoravano di più e presentavano un prodotto migliore. Questo è quanto. Questa è la differenza che c'è tra unboxing, recensione e pubblicità. Pure il fatto, per esempio, un prodotto, ma questa cuffia è super strafiga, mega. Perché adesso sto parlando delle cuffie. Guardate, super strafiga, morbida, strafiga, super... Che cosa hai detto? Non hai detto nulla. Se tu domani utente, evoco tu nel senso voi ragazzi che mi seguite, se io domani dico, domani mettiamo caso, mi arriva un headset, non è buono. E io dico, ma per è bello, è figo, e lo comprate. Che cosa succede secondo voi? Voi non acquisterete mai più un prodotto di quell'azienda. E questo è chiaro. Questo è assodato che voi non acquisterete mai più un prodotto di quell'azienda. In più non seguirete più me. E in più, che è la cosa peggiore, non vi fiderete più di me. Penserete che io sia un ciarlatano, un bugiardo, un pezzo di merda. Cioè, diciamolo chiaramente, un venduto di merda. Ok? Che questo non mi va. Cioè, proprio umanamente. Cioè, è brutto pensare che qualcuno pensi di te. Quello è uno stronzo, fa schifo e qua. Proprio umanamente. Tralasciando YouTube, le aziende e qua. È proprio orribile pensare che qualcuno pensi male di te, ok? Quindi, niente, questo. Io, sia professionalmente, perché a me piace... A me non piace l'informatica perché è bella. A me piace l'informatica perché proprio mi piace, mi appaga stare al computer, smontare, rimontare, tutto. Quindi c'è, oltre al mero unboxing, al mero video, c'è proprio una passione personale nel fare quello che faccio io. E, ripeto, parlo per me, lo sapete, io non seguo YouTube, me ne frega poco di quello che succede su YouTube. Io seguo più di Pai, Ray William Johnson, Keledan, Paco Fair, un caro amico. Tra l'altro vi ho già linkato il canale più di una volta. Questi seguo, ma non seguo... Non seguo altro perché non mi interessa. Uno, perché non ne ho tempo. Due, ripeto, perché non mi interessa seguire gli altri, quello che fanno. Sono cacchi degli altri, seguo rarissimamente altri video. Magari se ci sono quei video tipo, mi linkano un Epic Fail, quella serie di Epic Fail, ma questo seguo, basta. Quindi non... niente, l'argomento finisce qui, questa parte. Questa è la differenza tra unboxing, recensione e pubblicità. Poi, adesso viene una parte che probabilmente a molti di voi non piacerà. Sembrerà tanto una serie di vanti e tutto, ma non lo è. Ve lo posso garantire perché probabilmente, non lo so se si riesce, non credo che si vede, ma mi sto facendo rosso come un peperone perché mi sento in imbarazzo a fare questa cosa, ma me l'avete chiesto e io voglio rispondere. Mi mette a disagio questa situazione, ma io devo rispondere. Cioè, non ce la faccio a non rispondere a una domanda che mi avete fatto. Ed è giusto che vi abbiate una risposta. Facciolo a youtuber, siete voi ad iscrivervi al mio canale, quindi voi dovete avere una risposta da me, bella o brutta che sia, io ve la devo dare. Ozone. Ho detto un brand. Ok, adesso vi spiego perché ho detto questo brand. Se ci avete fatto caso, negli ultimi mesi, uno o due mesi, stanno fioccando in Italia un po' di video di questo brand. Soprattutto Headset, le Honda 3HX, le 7HX, adesso le Honda Pro, poi la tastiera Strike Pro che vi farò vedere, che io qua sopra non ci arrivo col braccio. Quindi non l'avrei comunque presa perché ho detto non farò vedere nulla in questo video, assolutamente. Fermiamoci solo un secondo. Ho dimenticato una cosa in unboxing, eccetera, e pubblicità. Se ci fate caso, tutti i miei video sono anche... Lo stesso unboxing di un brand è asettico. Si parla solo del prodotto e ringraziamento al brand. Se ci fate caso, non c'è mai un'immagine, non c'è mai una... Per esempio, una maglietta di un brand. Era solo per farvi capire anche questo. Ecco, le fotografie, magari i thumbnail, tutto. Non c'è mai, mai un'immagine. Questo è quanto. Non volevo solo aggiungere questo perché mi ero dimenticato. Ho riguardato un attimino il foglietto mentre leggevo il prossimo argomento e avevo saltato sto punto. Allora, stavo parlando di Ozon. Se ci fate caso, sono fioccati questi video da varie persone. Da varie persone, questo è quanto. Tutto questo perché sta succedendo? Per colpa o grazie, mettetela come volete voi. Io non so come classificare questa cosa. Mia, per colpa mia o grazie a me. Vedete voi se è una cosa positiva o una cosa negativa. Semplicemente c'è stato un accordo. Qualcuno di voi lo sa perché... Lo sa perché ha letto i commenti sotto qualcuno di questi video. Ci sono io dietro a tutto. Ok? Cioè, non è un vanto assolutamente. Sono rosso come un peperone. Vi sto solo dicendo le cose come stanno. Dietro ci sono io. È stato un accordo. Io conosco praticamente il 90% dei PR resistenti al mondo. Conosco quasi tutte le aziende praticamente. Sia che i video unboxing li abbiate visti di certi brand, sia di brand che ancora non avete visto. Li conosco comunque. Niente. Ci sono io dietro tutto questo. Volevo solo dirvi questo. Perché ci sono io dietro a tutto questo? E qui si passa al prossimo punto. Pundo? Mamma mia figuraccia. Si passa al prossimo punto. Le aziende che chiedono consigli a me. Li ti stai mandando? No, non mi sto mandando. Sono mail che mi arrivano. Che purtroppo non posso pubblicarvi né farvi vedere. Perché sotto c'è come ogni mail di tra mille virgolette lavoro. Non si possono rendere pubbliche. Assolutamente. Altrimenti l'avrei già fatto. Vi avrei fatto una sfizia di foto mentre parlavo. Così non dovevate vedere sta brutta faccia. Le aziende chiedono consigli. Ci sono aziende che mi conoscono per i video che faccio su YouTube. Che sono poco presenti in Italia. Sono poco presenti in Italia. Sto leggendo qua perché sono tre punti in uno di cui devo parlare. Sono poco presenti in Italia. Io le conosco non perché chissà che cosa. Io le conosco semplicemente perché questa è la mia passione. Cioè se non le conosco io queste aziende. Ma chi le deve conoscere? Questo è il punto. Le conosco. Faccio il video di un prodotto. Poi mi dicono dopo due tre giorni che ho pubblicato quel video di quel loro prodotto. Ciao lì. O ciao Umberto. Dipende da che rapporto ho con l'azienda. Questo utente YouTube, questo sito, mi ha contattato perché ha detto di aver visto il video da te e vuole collaborare con noi come stai facendo tu. Queste ragazzi sono parole molto lusinghiere per me. Assolutamente c'è un'azienda che ti viene a dire queste cose. Per me è lusinghiera come cosa. E ti chiedono. Umberto, ho lì. Tu ce le hai cinque dieci minuti. Mi vai a controllare questo canale e mi danno il link. Questo perché come ho detto io non conosco i canali di YouTube. Me ne frega poco di seguire YouTube. Non lo seguo praticamente mai. Se non per i canali che vi ho elencato prima. Mi vado a vedere il video e dopo vogliono un risponso. Lì che dici, lì Umberto, possiamo collaborare con loro? Che cosa ne pensi del canale? Di questa persona. Ha detto qualche... Magari sono persone straniere. Quindi parlano inglese, francese o qualsiasi altra lingua. E non parlano l'italiano. Non lo capiscono giustamente. Quindi vogliono un mio parere. Io adesso che cosa dovrei rispondere a questa azienda quando mi trovo video di persone che non sanno quello che stanno dicendo? Cioè mi trovo persone che dicono In slide la memoria RAM delle schede video si somma. Gli impianti a liquido. Only one sono gli impianti a liquido migliori perché già sono fatti così. Non lo so, una marea di cose inesatte. Io adesso che cosa devo dire a queste aziende? Ecco perché queste aziende si affidano spesso a me. Cioè dalla voce tremante si sente di come sto sotto tensione in questo momento. E allora, si affidano a me per queste cose. Perché direte voi poi si affidano a me? E' molto semplice. Lì che cazzo c'entri tu con queste aziende? E' semplice, ve lo spiego. E qui entra un altro complimento. Che non vorrei dire ma devo dirvelo per farvelo capire. Lì tu sei praticamente l'unico in Italia che sa quello che sta dicendo quando parla di un prodotto. E non solo in Italia a volte. Lì anche all'estero tu potresti far mangiare la polvere a tante altre persone. Quindi un'altra cosa lusinghiera, una cosa allucinante per me. Io ho 23 anni o quasi 24 anni. Ho solo una grande passione per questa cosa. E sentire le più grandi aziende del mondo. Non dell'azienda che sta dietro alla stradina. L'azienda del mondo, ripeto, che ti dicono una cosa simile. Un'azienda addirittura ha detto io non pensavo che in Italia ci potesse essere qualcuno così. Che faccia video in questo modo. Io sono rimasto così a bocca aperta. Quando leggevo questi messaggi a bocca aperta rimanevo. Non è solo comunque, ripeto, il fatto della... Poi me l'hanno... Ho chiesto varie spiegazioni su queste loro affermazioni. Non è solo il video, lo sfondo bianco e tutto. Alla fine è un cazzo di sfondo bianco dove ci metti il prodotto sopra. Loro parlano proprio della conoscenza del prodotto. Dicei, lì, Umberto, a noi che tu parli male del nostro prodotto va bene. Semplicemente perché tu sai perché questo prodotto va male. L'hai spiegato perché e tutte queste cose. E puntualmente, anche se una recensione è stata fatta negativa, cioè se un prodotto non va bene, volete fare questo con questo prodotto, non lo fate perché non va bene. Loro ringraziano comunque e continuano a collaborare, mandano messaggi, ti va di continuare, eccetera, eccetera. Sono tutte cose lusinghiere. Lì ti stai mandando? No, non mi sto mandando, vi sto riportando quello che hanno detto loro, le aziende. Poi, adesso ci sono altri due punti che dovrebbero essere. Allora, ritornando a fatto delle, come posso dire, di queste persone che seguendo il mio canale vanno a chiedere alle aziende. Spesso e volentieri, quando poi queste, ritornando comunque al discorso di prima, quando, se invece queste aziende dicono, per esempio, vabbè dai, tu ci hai dato il tuo parere, però proviamoci, va, magari, comunque l'azienda cerca comunque una certa visibilità, è normale, cioè non esiste un'azienda che non vuole essere conosciuta, è un controsenso. Un'azienda deve essere conosciuta per sopravvivere. È così che funziona, cioè è normalissimo, come un essere umano che deve mangiare per vivere. L'azienda ha bisogno di essere conosciuta e di guadagnare per sopravvivere. È così che funziona. Ci hanno provato e nel 99,9% dei casi mi venivano a chiamare, lì siamo stati degli idioti a non starti a sentire. Perché? Perché quegli utenti si sono rivelati inadeguati, non competenti nell'argomento, almeno a detta loro, perché spesso ho dovuto, ho fatto delle piccolissime traduzioni dei loro testi e glielo ho inviati. Comunque queste aziende, dopo queste prove fatte con quei, chiamiamole prove, fatte con quei studenti, hanno deciso di abbandonare la collaborazione con loro e a questo mi riallaccio ad un altro, ad una, dove sta? Eccolo qua, ad un altro punto. In Italia, come youtuber sto parlando, e anche rispetto ad alcuni siti, ma lasciamo stare, non è campo, non mi riguarda il sito in sé per sé, la testata, ecco, il website, sono l'unico youtuber in Italia ad avere delle collaborazioni. Perché? Uno, ci sono due motivi principali. Uno, perché chi fa video non conosce quelle aziende, cioè non le conosce, non sa che esistono. Perché direte voi, come fai lì tu a conoscerle? Come già ho detto, essendo appassionato, da quando sono un marmoccio di tre anni, mi piacevano almeno le console, il computer, ho avuto il computer molto presto da piccolo, sono sempre stato appassionato, quindi mi è sempre piaciuto leggere di informatica tutte queste cose, informatica più hardware comunque, quindi è normale che io conosca dei brand, ed è anche normale che venga informato dai brand stessi quando nascono i nuovi brand. Non vi dico comunque i nomi, però è questo un motivo. L'altro motivo è che alcune aziende che selezionano accuratamente i propri partner, i propri collaboratori, i propri youtuber, dopo aver fatto dei video di prova, video di unboxing, eccetera, sono stati tutti scartati e alla fine sono rimasto solo io. Questo è quanto. Cioè, sembra tutto un enorme vando. Cioè, l'istapre c'è uno studio per vandarti? No, lo ripeto per la decima volta probabilmente. Sono tutte mail inviate, tutte realtà, tutte cose che nel bene o nel male non è che devo fare, però mi sento in dovere di farlo. Perché una persona che acquista un componente sbagliato, cioè se per colpa di qualcuno, tuo, utente che mi stai guardando, voi, utenti, che mi state guardando, acquistate qualcosa di sbagliato, che non è quello che volevate, non vi aspettavate che fosse così scadente e tutto, perché uno ha fatto solo pubblicità, è bello, è strafigo, mi dispiace, perché innanzitutto sono soldi buttati, e oggi i soldi servono, cioè oggi c'è la crisi che ci sta, i soldi sono importanti, ogni banconota da 10, 20, 50 euro che se ne va, sono soldi buttati, ok? E poi a me non piace l'ignoranza su questi argomenti, cioè non mi piace che chi parla di questo prodotto e ma io so, io sono strafigo, no, no e no, non lo so, cioè se vi facessi vedere i link che mi hanno linkato le aziende, voi vi mettereste le mani nei capelli, cioè quei canali potrebbero essere chiusi per disinformazione, per le cose che sono state, ma non sto parlando di canali 1.000, 2.000 iscritti, sto parlando di canali pure con 100 e 200.000 iscritti, cioè canali che mi mangerebbero, cioè ci vogliono 20 meer per equiparare un canale del genere, eppure è così. Poi c'è un ultimo punto da analizzare che sono le collaborazioni anticipate, che cosa voglio dire con questo? Grazie di nuovo alla qualità dei video, alle conoscenze che ho nell'ambito hardware, alle competenze che ho, e ripeto, non sono parole mie, ci tengo a precisarlo che non le ho dette, non me le dico da solo queste cose, perché anche io devo imparare, chiunque deve può continuare a migliorare e imparare, quindi non esiste quello è il miglior, no, io devo continuare a imparare, io domani se escono delle RAM DDR4, ma io che ne so come funzionano, come vanno e come non vanno, non è perché sono bravo, già lo so, no, devo imparare anche io come funzionano quelle cose, era solo per farvi un esempio, ci sono aziende che richiedono 10, 20, 30, 50, 100.000 iscritti e un tot di visite per video o mensili o giornaliere per collaborare. Sono aziende che si ritengono, diciamo così, d'elite, facciamo questo esempio, che però, con me, hanno avuto un atteggiamento completamente diverso. Perché? Hanno detto, ok, tu non rispetti i nostri requisiti, perché ragazzi, io ve l'ho detto, e vi sto riportando una sorta di offesa da parte dell'azienda, tu non rispetti i nostri requisiti minimi, cioè, io non rispetto i requisiti minimi, perché ve l'ho detto, io sono un canale piccolo, io non sono nessuno. Però l'azienda ha detto, però la qualità dei tuoi video è qualcosa che noi abbiamo visto raramente su internet. Quindi ha detto, a noi farebbe quindi piacere collaborare con te. Questo è quanto. Ecco perché alcune aziende richiedono una marea di iscritti. Io probabilmente non li vedrò mai, quegli iscritti, quei numeri, però io comunque riesco a stringere una collaborazione con queste aziende, con queste società. Ragazzi, questo è, sì, questo è quanto. Penso di aver analizzato praticamente tutti i punti, sto parlando da 29 minuti. Io, io spero di aver risposto a tutte le vostre curiosità, ecco, insomma, a tutte le vostre, a tutte le vostre domande. ho fatto quel nome, quel brand Ozone, ve l'avevo detto già all'inizio, ho fatto quel brand perché mi serviva per spiegarvi questa cosa di tutti questi video che me l'avete anche chiesto, cioè in realtà me l'avete chiesto un paio di persone, giusto un paio se siete state, però è doveroso, da parte mia, rispondere del perché è successa questa cosa. Basta, questo è quanto. Io vi ho risposto e sia ben chiaro, cioè, dirlo alla fine probabilmente è stupido, però non prendete questo video come lì ti stai mandando, lì non ti stai mandando, no, non lo farò mai e mai l'ho fatto. Io sono, faccio quello che faccio perché mi piace, punto e basta, lo faccio per quello. Però come già ho detto, un giorno magari questa passione, spero che un giorno possa portarmi a qualcosa in più, a cercare una sistemazione, un lavoro, questo è un argomento, non c'entra niente col video che ho fatto, è solo una cosa mia, che io vorrei vivere con quello che faccio, non lo so, lavorare per un'azienda, aprire qualcosa di mio, non lo so, qualsiasi cosa, tutto per amore dell'hardware, perché mi piace, perché ci vivo in queste cose, cioè, io tutto quello che ho, pure la bottiglia tecnologica vorrei, se fosse possibile. E niente, cioè, non lo so, forse sto parlando, sto finendo di leggere il fogliettino e vedere se mi viene qualche altra cosa, se ho tralasciato qualcosa, ma no, non credo. Penso di avervi parlato di tutto, come si, anzi, adesso facciamo così, a che cosa serve ve l'ho spiegato, come si collabora anche pubblicità contro unboxing, unboxing contro pubblicità, le differenze quali sono. ah, ho dimenticato un punto che avevo segnato all'ultimo, l'avevo scritto pure un po' più grande, è proprio quello saltato, non tutto rosa e fiori, l'ho schiamato proprio così, non tutto rosa e fiori. Che cosa voglio dire? Lì, ma a te ti regalano i componenti, ma non sei contento, sembri, a volte posso sembrare scontento di questa cosa, preoccupato, si ragazzi, perché il fatto che ti regalano il componente, voi pensate sia tutto bello, ti regalano il componente, sarà figo, no, perché a differenza di parole di aziende, a differenza di quello che fanno le altre persone, noi gli mandiamo il prodotto e questi dopo una settimana già ci preparano il video, no, io per fare un video ci metto un giorno intero per registrarlo, dopo aver fatto test di almeno un mese, test di almeno un mese, tranne per prodotti molto simili, ad esempio un aggiornamento o un miglioramento di quel prodotto, quindi la base resta quella, quindi il tempo di test si accorcia due settimane, una settimana, ma se il prodotto ha subito delle migliorie lievissime, ad esempio, per dirne una, un headset che passa da jack ad usb, basta, se mi mandano questo aggiornamento e l'headset è identico, io che lo ritesto a fare per un mese, se vado a vedere che è identico, cioè è proprio tale, è tale e quale, proprio in napoletano, è identico stessa, l'unica cosa che è cambiato la tipologia di collegamento, magari per adattarsi alle nuove console, questo è quanto, non è tutto rosa e fiori, perché? Perché io, dal canto mio, e parlo per me, io ci metto impegno, io non ci dormo la notte a volte per fare dei video, ma no, non mi pesa in questo senso, non ci dormi la notte, non lo fa, no, io non ci dormo la notte, pure perché, se non riesco a completare quella cosa in quella giornata, ad esempio una serie di test che sto facendo, io non sono contento, non sto bene con me stesso, se non riesco a portare a termine quello che mi ero prefissato, quindi per me, può sembrare bello, sì, ricevi il componente, sì, non ve lo nascondo, è bello ricevere un componente, se però, vediamo l'altra faccia della medaglia, ci sono settimane di lavoro per un singolo componente, quindi non è, diciamo così, sì, la felicità che ti arriva è il componente, però poi dopo, ragazzi, c'è tanto lavoro, c'è un lavoro immane dietro, davvero immane, io non posso farvi vedere i test che faccio, dovrei fare un video probabilmente di un mese per farvi vedere tutto quello che faccio con un componente, cosa che non è possibile, anche perché la memoria SD della mia, della cosa qua, come si chiama, della, la cosa con questo registrato, la videocamera, può registrare al massimo fino a due ore, quindi non potrei, non potrei nemmeno farvelo, farvi vedere tutto, tutto questo, però ragazzi, vi assicuro che c'è lavoro, lavoro, lavoro e stress, la dire, perché se qualcosa non va, mettiamo a cosa, va tutto bene, ok, un prodotto va bene, funziona bene, ok, fatto, ti sei fatto per esempio il tuo un mese, due mesi di prova, hai visto sotto vari aspetti cosa fa, magari, che ne so, un dissipatore, come si comporta mentre renderizzi, mentre giochi, mentre fai test, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, devi provare tutti i casi, e metti caso che invece non va bene, temperature anomale, l'hai montato male, rismont, pulisci, rimonta tutto, ancora male, cambia pasta termica, rimonta tutto, porca miseria, non va, che fai, provi a fare tutti i test, vedi dov'è che si ripresenta quel problema, e cerca di capire perché c'è quel problema, che può essere, che ne so, un rumore, senti, ti 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 ti, che cosa può essere, è la ventola, c'è un po' di polvere, puliscila, fai qualsiasi cosa, e poi alla fine ti rendi conto che magari sono le alette che sbattono una contro l'altra per le forti vibrazioni, quindi magari, poi vai a vedere, ma l'ho montata bene la ventola, ma non è che la devo mettere un po' più giù, un po' più su, dove si può, scegliere l'altezza, non è che i gommini, un altro sta storto, quindi fai in modo che la ventola stia un po' più storta, devi fare un milione di prove, praticamente ti rincoglionisci appresso a un prodotto per fare una cosa simile, poi ci sono anche, questo mi sono diventato di dirlo, però la soggettività di queste cose, perché se le temperature sono, attenzione, oggettive sotto un certo punto di vista, perché ogni cpu, per esempio, è diversa l'una dall'altra, le frequenze, per esempio, 4.5 GHz si raggiungono, ogni cpu lo raggiunge con voltaggi diversi, è normale, cpu sculata, quindi fortunata, cpu che purtroppo ha bisogno di voltaggi della madonna per raggiungere quelle frequenze, quindi le temperature possono differire di tantissimi gradi, tantissime, no che una 20 gradi, una 200, no, però possono differire, dicevo, bisogna inserire la soggettività di un unboxing, di una recensione, un mouse, su questa mano, come vi aspettate che io possa dire, è comoda per un, che ne so, cioè, che esempio posso farvi, ecco, un mouse magari molto piccolo, io, per me, non potrei mai dire che è comodo, posso magari farlo provare, che ne so, alla mia fidanzata che ha le mani più piccole, a mia madre, non lo so, a chiunque altro, e loro mi dicono, dopo un paio di giorni, perché è successo anche questo, sì, è comodo, mi sono trovato bene, perfetto, ma soggettivamente, io dico, ragazzi, per me, per le mie mani, per queste stifelle carnica, questo mouse non è comodo, non è assolutamente comodo, viceversa, se un mouse è molto grande, riesce, ergonomico e tutto, magari per chi ha la mano piccola, dice no, cioè, ho sto coso enorme, io sto con la manina qua su, piccola piccola, e non riesco, non riesco, a raggiungere bene i tasti, risulta scomodo, mentre soggettivamente, per me, che ho una mano enorme, un mouse grande, è comodo, bisogna tenere conto di tantissimi aspetti, non esiste il mouse universalmente comodo, no, no, assolutamente no, perché io ho le mani più grandi della media delle persone, quindi, per me ci vuole un mouse mediamente, un po' più grande, il mouse deve essere più grande, per me, per risultare più comodo, non posso pensare di usare il mouse, avete presente il micromouse, quei mouse così, ma io come faccio? Cioè, io metto il pollice sopra, l'indice sopra, l'ho coperto tutto quel mouse, cioè, con un solo dito copro tutte e due tasti, destra e sinistra, infatti faccio così a volte, la mia ragazza ha il micromouse, è chiaro il concetto, bisogna tenere conto di tantissimi aspetti, niente, ragazzi, io sto parlando da 37 minuti, io, non lo so, cioè, questo volevo dirvi, queste sono le collaborazioni, questi sono i unboxing, questo è tutto, non c'è nient'altro dietro, cioè, vi ho detto proprio tutto, 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 rileggo di nuovo il foglietto, uso per, no, consigli alle aziende, gli altri youtuber che mi seguono, dicono anche, l'ho visto anche da lì, chiedono i consigli, la, le collaborazioni anticipate per, no, ragazzi, io, io ho finito, questo è quanto, questo è tutto quello che dovete sapere, per, quando riguarda le collaborazioni, con le aziende, io penso, ripeto, di aver risposto a tutto, se ci sono altre domande, magari scrivetele nei commenti, e se sono brevi, magari vi rispondo direttamente, nei commenti, se sono chilometriche, magari, scrivetela come question, lì, se pensate che la risposta possa essere lunga, scrivetela come question, in un question, andate sotto un question, scrivetela lì, e io poi magari, vi, vi posso rispondere, ragazzi, questo è quanto, io spero che il video vi, vi abbia interessato, vi abbia aiutato a capire, che, non c'è nessuna aura mistica, dietro questa collaborazione, è una cosa normalissima, cioè, è normale, proprio normale, è, è normale, stavo cercando un altro, ma è normale, punto, cioè, basta, non c'è nient'altro da dire, se avete dubbi, basta, sto zitto adesso, se avete dubbi, giù nei commenti, scrivete tutto quello che volete, ragazzi, noi ci becchiamo ad un prossimo video, wadju, bye bye, I'm Batman!